Il mistero della nave Edia è la scomparsa del suo equipaggio al centro del nuovo libro di Giovanni Papa, che questa sera sarà presentato al Circo del Corallo di Sciacca a partire dalle ore 20 e 30, promotore dell'iniziativa a Curseo Graffeo, nipote di Filippo, uno di quei marinai di cui non si è saputo più nulla in quello che è stato definito il più grande giallo marinaro del XX secolo. All'epoca della vicenda si era interessato persino Padre Michele Arena, ma scontrandosi con il muro di gomma degli stati coinvolti, ossia l'Italia e la Francia, che sulla questione, da oltre mezzo secolo, hanno fatto calare il segreto di Stato. A Curseo Graffeo, questa sera, la presentazione dell'ultimo libro di Giovanni Papa, concentrato ovviamente sul mistero della nave Edia Quali sono le novità che apporta questo libro nella conoscenza di questo giallo? In questo libro praticamente va a fare delle varie ipotesi, poi naturalmente il lettore va a valutare qual è la verità dietro la scomparsa della nave Edia. Praticamente mette a nudo i depistaggi, le menzogne varie di quel periodo fatto dal governo che chiaramente dovevano archiviare il prima possibile come sciagura questo caso perché in pratica la nave non è mai naufragata ma è stata sequestrata. Un sequestro finito nei peggiori dei modi, in quanto sequestrata da francesi perché è stata presa con le armi a bordo. Armi che mandava l'Italia in aiuto all'FLN algerino. Siamo praticamente alle battute finali della guerra d'Algeria. Praticamente c'erano dei forti interessi da parte un po' di tutti gli stati tra cui anche l'Italia con l'Ene di una volta raggiunto l'indipendenza di firmare gli accordi che in questo caso avrebbero reso l'Italia indipendente dal punto di vista energetico. Lei ovviamente è particolarmente toccato da questa vicenda in quanto in quell'equipaggio c'era anche suo zio Filippo Graffeo di cui purtroppo da allora non si è saputo più nulla. Sì, in quell'equipaggio formato da 19 italiani un gallese c'era mio zio Graffeo Filippo, aveva appena 19 anni quando era partito da Sciacca. Nel giro di sei mesi è scomparso, si era imbarcato a Venezia sulla nave Generus che stranamente dopo qualche mese il raccomandario marittimo gli ha cambiato il nome in Edia. Dalle lettere abbiamo scoperto che praticamente il suo primo viaggio che ha fatto con la Generus è andato a Benesaf, un porto algerino, quindi da lì probabilmente la nave era stata inserita nella lista nera delle navi che trasportavano armi in favore dell'Algeria. Per questo motivo gli aveva cambiato il nome in Edia. Un fatto strano perché non era cambiato né la proprietà né la bandiera, nulla praticamente. Ricordiamo a tutti l'appuntamento per stasera? Stasera alle ore 20.30, circolo Naud Corallo, presentazione del libro Ebdi, ultimo messaggio di Gianni Papa. Grazie a tutti.